Il treno regionale veloce 4013 di Tremitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è diretto a Livorno Centrale delle ore 8 e 37, è in arrivo all'imario 9. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce 4013 di Tremitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è diretto a Livorno Centrale delle ore 8 e 37, è in arrivo all'imario 9. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce 4013 di Tremitalia, il treno regionale veloce 4013 di Tremitalia, è in arrivo all'imario 10. S.A.S.A.S.A.R. Il treno va al Livorno, vero? Il treno va al Livorno, vero? Il treno va al Livorno, vero? Il treno regionale 19147 di Trinitaria, delle ore 8 e 43, proveniente da Aulandigiana e in amico al Livario 4. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 19147 di Trinitaria, delle ore 8 e 43, proveniente da Aulandigiana e in amico al Livario 4. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 19147 di Trinitaria, delle ore 8 e 44, proveniente da Aulandigiana e in amico al Livio 4. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. 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 Grazie a tutti.